Sette arresti, otto d'aspo per i tifosi biancazzurri e il bilancio della domenica di follia a margine dell'incontro di Coppa Italia tra Acragas e Favara. Commerciante 35enne picchiato a Licata, identificati gli autori, sono sette immigrati, ospiti di una comunità per stranieri. Pagamenti in ritardo bloccano la spesa per le imprese, avviato il percorso per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali. Seconda fase degli interventi di manutenzione straordinari del viadotto, nuova viabilità fino alla primavera. Ben trovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Prosegue l'inchiesta sui disordini all'Esseneto dopo il derby Acragas-Profavara. Altri due Ultras agrigentini sono finiti agli arresti domiciliari dopo un'attività investigativa a lampo degli agenti della Digos e delle volanti della questura di Agrigento. Si tratta di un 32enne e di un 39enne, il primo è accusato di lesioni, oltraggio e minacce, mentre il secondo di non aver rispettato il DASPO a cui era sottoposto. Ne guai anche un 17enne agrigentino. Quest'ultimo è stato denunciato a piede libero dopo essere stato ripreso dalle telecamere con una pietra in mano. Giuseppe Moscato. Conferenza stampa questa mattina alla questura di Agrigento per illustrare i provvedimenti di polizia giudiziaria ed amministrativa che sono stati presi a carico dei soggetti responsabili dei disordini in occasione dell'incontro di calcio Acragas-Profavara tenutosi all'Esseneto domenica scorsa 28 agosto. Come si ricorderà, subito dopo l'incontro di calcio all'esterno dello stadio, un gruppo di facinorosi Ultras dell'Acragas si sono scagliati contro i rappresentanti delle forze dell'ordine, tirando contro bottiglie di vetro e sassi, ferendo anche due appartenenti alle forze di polizia. Alcuni tifosi sono stati arrestati in fragranza di reato, altri invece rindracciati grazie anche alle indagini svolte e al supporto delle riprese video e fotografiche effettuate. In totale sono stati emessi 8 DASPO contro DMS classe 2003 tratto in arresto perché col volto travisato da scaldacollo langiava sassi e bottiglie, 5 anni per lui. FA classe 2004 tratto in arresto perché col volto travisato da passamontagne langiava sassi e bottiglie, 4 anni di prescrizione. PE classe 1999 faceva parte attiva del gruppo che indonava cori minacciosi e lanciava bottiglie di vetro contro gli agenti, 5 anni di prescrizioni. CM classe 1998 tratto in arresto a torso nudo e travisato da una bandana imbugnava una bottiglia, 4 anni di prescrizione. FS classe 1992 tratto in arresto con volto travisato da bandana faceva parte attiva del gruppo, lanciava bottiglie di vetro, 5 anni di prescrizione. Ed ancora LD classe 1990 tratto in arresto faceva parte attiva del gruppo e indonava cori minacciosi lanciando bottiglie di vetro, 5 anni di prescrizione. FM classe 2001 deferito in stato di libertà faceva parte attiva del gruppo e indonava cori minacciosi, 2 anni di prescrizione. CF classe 2004 minore deferito in stato di libertà con volto travisato faceva parte di attività del gruppo e lanciava bottiglie di vetro, anche per lui 2 anni. A tutti i soggetti è stato vietato su tutto il territorio nazionale l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Il passaggio è fondamentalmente basato sulla intransigenza di tutte queste intolleranze, chiamiamole così, ma aggressioni vere e proprie che avvengono presso lo Stagio e presso tutte le strutture sportive in caso di incontri. Devono sapere questi soggetti adusi a commettere tali azioni veramente inconcepibili durante un avvenimento sportivo, di gioco, di divertimento che la questura di Agligento sarà intollerante, intransigente, andare a colpire con tempestività ogni azione che sarà ritenuta contraria allo scopo per cui c'è un avvenimento sportivo. Questo adesso messaggio deve passare in maniera chiara. È avvenuto tutto ciò all'inizio del campionato, forse questo qua potrà servire da monito a far capire che per tutto quanto l'iter del campionato ci sarà questo tipo di azione nostra, tempestiva, forte, intransigente. Lo ribadisco perché questo deve essere il concetto e deve passare. Con sanzioni durissime. certi soggetti devono capire che si possono dimenticare di vedere le partite di qua ai prossimi anni se un'altra volta si permettono di fare azioni come quelle che ci sono state. Perché è inconcepibile. Anche loro, in primis, loro hanno dato allo stadio per divertirsi. È un gioco. Devo ricordarsi sempre che è un gioco. Questo è il messaggio delle passate. Sono state delle intemperanze, mi riusco ai fatti del 2020 in Pro Favara-Agras. Infatti prima della partita avevamo trovato delle mazze, dei tondini, dei bastoni all'esterno dello stadio che abbiamo sottoposto subito a sequestro a carico di ignoti. Ci aspettavamo quindi qualcosa. Certo, non potevamo immaginare un'azione così aggressiva nei nostri confronti al termine della partita, alla quale però per fortuna siamo riusciti a dare una risposta decisa e immediata. Come diceva il collega, spero serva da sprono per il futuro perché lo stadio deve essere per i tifosi. Chi si rende responsabile di questi gesti non può sicuramente a secondi da tutti i costi. Verrà naturalmente prestata la massima attenzione a tutti gli aspetti organizzativi relativi al servizio di ordine pubblico che verrà affidato a persone di comprovata esperienza e capaci certamente di gestire eventuali problematiche. Ma ci affidiamo comunque alla professionalità della nostra squadra per intenderci e ci approcciamo sereni a questo evento che verrà gestito secondo le ordinarie regole, gli ordinari criteri operativi arricchiti dall'attenzione che gli è dovuto a causa dei fatti avvenuti. Un 42enne morto annegato dopo essersi tuffato nel lago Gibesi a Naro nell'Agrigentino, l'uomo di origine rumena Alin Marian Balan aveva deciso di fare un bagno dopo una grigliata con amici e parenti. Si è inabissato a circa 60 metri dalla riva e non è più riemerso. La salma alcune ore dopo è stata recuperata dai vigili del fuoco e i sommozzatori di Palermo. Incidente mortale questa notte a Santa Venerina in provincia di Catania. Un cuoco di 25 anni Giovanni Catanzaro originario di Riposto ma residente in Olanda ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua Honda Hornet e la Citroen C3 con a bordo quattro giovani di Zafferano etnea rimasti feriti nell'impatto frontale. Lo schianto è avvenuto intorno all'1.30 sulla strada che collega Giarre a Santa Venerina. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che hanno provato in vano a rianimare il giovane. Gli occupanti dell'auto sono stati trasportati in ospedale e non sono feriti gravemente. I rilievi dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Santa Venerina. I poliziotti del commissariato di Licata guidati dal vicequestore aggiunto Cesare Castelli hanno identificato e denunciato i presunti autori della violenta aggressione e danni di un commerciante 35enne del posto gestore di una panineria nel centro abitato. Si tratta di ospiti di una comunità di stranieri di Licata. Gli agenti di polizia al termine di un'attività investigativa Lampo hanno anche ricostruito il movente alla base del pestaggio che sarebbe di natura economica e precisamente una diatriba scaturita dalla collaborazione di uno degli aggressori come aiutante nell'attività lavorativa del commerciante. Quest'ultimo è stato trasportato all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo per le cure mediche. Presente all'aggressione anche la moglie del 35enne e una 29enne del posto che fortunatamente non ha avuto bisogno di cure mediche. In corso ulteriori indagini per individuare altri protagonisti della vicenda. Siamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza nella nostra città, afferma il sindaco di Licata Giuseppe Galanti. Nel condannare severamente il gesto, prosegue il primo cittadino, rivolgo nuovamente un appello alle istituzioni con in testa e sua eccellenza il prefetto di Agrigento affinché sia aumentata ulteriormente l'attenzione su Licata. Si valuti, prosegue la possibilità di riunire nuovamente nella nostra città il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e in quella sede verificare l'opportunità di potenziare ulteriormente i presidi delle forze dell'Ordine presenti. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, striglia i dirigenti, i pagamenti in ritardo, bloccano la spesa per le imprese, avviato il percorso per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali. Arturo Cantella. Il Presidente della Regione Musumeci diffide i dirigenti generali, bloccano la spesa per le imprese, rimuovere ogni ostacolo per completare il riaccertamento dei residui attivi al 31 dicembre 2021, consentendo così lo sblocco definitivo della spesa e la predisposizione da parte della Ragioneria Generale nel più breve tempo possibile del rendiconto del 2021. Questo quando dichiarato in una notte il Presidente della Regione Musumeci, inviato ai dirigenti generali dei vari dipartimenti, segnalando gravi ritardi nei pagamenti delle fatture da parte dei diversi rami dell'amministrazione regionale nei confronti delle imprese affidatari di lavoro e di servizi pubblici. Ritardi per Musumeci che a loro volta influiscono sui pagamenti ai dipendenti, ai fornitori e compromettendo in alcuni casi la stessa sopravvivenza delle imprese. I lamentati ritardi da parte anche delle relative associazioni risultano essere per la Presidenza della Regione la conseguenza della mancata definizione nei tempi previsti dalle circolari e dalle istruzioni già impartite degli adempimenti finanziati al ricertamento ordinario dei residui al 31 dicembre scorso, con il conseguente blocco o ritardo a diversi mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di una parte rilevante della spesa avviata negli esercizi precedenti. La mancata approvazione, conclude il convocato e stampa dell'attuale Presidente della Regione, entro il 30 giugno scorso del rendiconto generale ha determinato l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di contabilità e in particolare l'impossibilità di utilizzare l'avanzo vincolato con il conseguente blocco anche della spesa. Nella nota si conclude evidenziando che è stato già avviato il percorso per il necessario accertamento delle responsabilità dirigenziali. Ad Agrigento sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Acragas 2, nuova viabilità fino alla prossima primavera. C'è il servizio. Hanno avuto inizio la seconda fase degli interventi di manutenzione straordinaria del viadotto Acragas 2 lungo la strada statale 115 quota ad Agrigento. Lo scorso anno il viadotto Morandi, di lunghezza pari a 790 metri, era stato oggetto degli interventi di risanamento di tutte le varie pile. La seconda fase degli interventi prevede adesso il rinvolso dei pulvini, gli elementi trasversali al senso di marcia, posti tra le pile e l'imbalcato, il ripristino dello stesso imbalcato e l'installazione delle nuove barriere laterali, a comunicarlo e l'ANAS Sicilia. La prima carreggiata oggetto dei lavori, che sarà quindi chiusa al traffico, è quella in direzione del centro città Agrigento, con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, limitatamente ai mezzi non eccedenti le 3,5 tonnellate. Tale disposizione alla viabilità rimarrà in essere sino alla prossima primavera. Ad Agrigento il capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, ha fatto un sopralluogo oggi alla rotonda della Mosella, gestita da l'ANAS e afferma «Mi sono personalmente reso conto delle condizioni di abbandono e pericolo in cui versa la rotonda, così come mi è stato segnalato da parecchi concittadini e utenti del molto trafficato svincolo e snodo interprovinciale. Ho riscontrato non solo il pericolo incombente, ma anche la scarsa manutenzione e la mancanza di illuminazione. Chiederò all'ANAS il ripristino della corretta funzione dell'opera, la pulizia e la sistemazione delle carreggiate che si diramano dalla rotatoria e il rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale». E conclude Gramaglia un intervento urgente. Notte di paura a Mistretta. Un incendio minaccia le abitazioni. Vediamo. «È stato un pomeriggio di paura, quello vissuto dalla cittadina di Mistretta, in quanto un ingentio di vasta proporzione è divampato nella zona antica del paese Mastratino, proprio sotto il castello. Sono stati attimi di paura, in quanto le fiamme, con il passare del tempo e in attesa dei soccorsi, hanno fatto vivere ai residenti momenti di forte apprezzione. Scattato l'allarme, sono partite le operazioni di spegnimento grazie all'intervento dei vigili del fuoco volontari di Mistretta, del corpo forestale, degli operanti incendio, dei volontari di protezione civile e semplici cittadini, che con mezzi di fortuna hanno dato il loro contributo allo spegnimento delle fiamme. Purtroppo anche i soccorritori hanno avuto il loro bel da fare per domare le fiamme, in quanto le strade troppo strette non hanno permesso i loro mezzi antincendio di potere intervenire. Le erba secca e delle folate di vento hanno incenerito ben presto un vasto territorio. Per fortuna che nel giro di qualche ora i soccorritori presenti con le loro operazioni di spegnimento hanno dato buon esito e il rogo è stato bloccato ai piedi del castello, lasciando il solito paesaggio incenerito. Per meglio bonificare tutta l'aria interessata è stato richiesto l'intervento di un elicottero che ha gettato acqua per mettere in sicurezza tutta l'aria che è stata presa di mira dalle fiamme. Sulla natura di questo ignobile gesto non ci dovrebbero essere dubbi, si pensa che sia stato di natura dolosa e per questo motivo che tra gli abitanti si registrava tanta paura, tensione e rabbia perché non si comprende cosa possa spingere a fare questi gesti criminali che oltre a rovinare la natura mette in serio pericolo la vita di chi vive nelle adiacenze senza dimenticare tutte quelle persone che incuranti del pericolo si gettano tra le fiamme per cercare di domarle. Oltre alle fiamme altro fatto da attenzionare è quello che è stato trovato sotto la fitta vegetazione ridotta in cenere che ha permesso di portare alla luce i cumuli di rifiuti di ogni tipo fino ad ora ricoperti dall'erba alta. Certamente si tratta di una zona che adesso deve essere maggiormente attenzionata e sorvegliata in maniera che posti belli e caratteristici non vengano deturpati da gesti di incivili che non hanno a cuore le sorti dei posti in cui vivono. Istruzione dalla Regione, 3,6 miliardi di euro alle scuole siciliane per interventi anti-covid. Arturo Cantella. Contributi per 3,6 milioni di euro alle scuole statali siciliane di ogni ordine grado per adeguare gli ambienti scolastici destinati ad accogliere gli studenti affinché loro possano essere garantiti le norme di sicurezza anti-covid. A seguito di una ricognizione dei fondi residui ancora disponibili della originaria dotazione finanziaria di circa 18 milioni a valere sui fondi POFES 2014-2020, l'assessorato regionale all'istruzione alla formazione professionale ha pubblicato un nuovo avviso per erogare somme necessarie di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici di aule didattiche ma anche della fornitura di arredi scolastici idonee a favorire misure anti-covid, ad esempio i sistemi di areazione e filtraggio dell'aria. Le istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo che non abbiano già partecipato al precedente avviso potranno così presentare l'istanza entro il 12 settembre inviando la via Pecca all'inizio edilizia scolastica a chioccialegalmail.it. Il bando inoltre è consultabile sul sito web della regione siciliana nella sezione ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria. Maltrattamenti in famiglia e ripetute minacce alla madre perché contraria alla nuova relazione sentimentale intrapresa succede a Grotto dove una 27enne impiegata è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della locale stazione. È stata la madre, una 57enne, a rivolgersi ai militari dell'arma e a raccontare i sopprusi e i timori che si verificano all'interno dell'abitazione. Il primo passo è stato quello di attivare il cosiddetto codice rosso, un protocollo a tutela delle persone vittime di violenza. Il genitore, contrario alla nuova relazione, avrebbe raccontato delle minacce subite dalla figlia da quando quest'ultima ha cominciato a frequentare un ragazzo. L'isolamento per i positivi al covid-19 termina dopo 5 giorni in caso di tampone negativo e purché senza sintomi da almeno 2 giorni e non più dopo 7. In caso di positività per assistente invece si potrà interrompere comunque l'isolamento al termine del 14esimo giorno anziché gli attuali 21. Lo prevede, come scrive today.it, una nuova circolare del Ministero della Salute dal titolo Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di covid-19. Nelle documento si legge che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento con le modalità di seguito riportate. Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni purché venga effettuato un test antigenico molecolare che risulti essere negativo al termine del periodo di isolamento stesso. In caso di positività per assistente si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo a prescindere dall'effettuazione del test. La circolare firmata dal direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rez è stata emanata in conseguenza nella cessazione dello stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità. Il 24 agosto scorso si legge il Ministero sempre a secondo quanto espresso nel documento valutata la diffusione a livello globale della nuova variante Omicron B.1.1.529, considerata l'attuale evoluzione del quadro clinico del Covid, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e sulle modalità di isolamento. Nella settimana del 22 al 28 agosto scorso si registra un decremento dei nuovi casi con una incidenza pari a 10.747, meno 7% valore cumulativo, 224 su 100.000 abitanti e il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Siracusa, Trapani e Grigento. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e 79 anni e tra i 60 e 69. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i dati fanno riferimento alla settimana dal 24 al 30 agosto scorsi. Nel target 5 e 11 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 26.33%, hanno completato il ciclo primario, 69.812 bambini pari al 22.75%. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90.72%, mentre la percentuale di quanti hanno completato il ciclo primario è pari all'89.40%. I vaccinati con dose aggiuntiva booster, ossia la terza dose, sono 2.760.768, pari alla 72.29% degli aventi diritto. Nel primo marzo è iniziata la somministrazione della dose di richiamo booster, quarta dose nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 13 luglio la vaccinazione in quarta dose è stata estesa agli over 60 e alle persone ad elevata fragilità. Nel primo marzo sono state effettuate complessivamente 100.925 somministrazioni di quarta dose, di cui 46.939 soggetti over 80. Senta generale, dicono che una delle sue qualità più spiccate è il segreto. È vero che neppure i suoi figli conoscono il suo numero di telefono diretto? Proprio così. E le pesa sapere i rischi che corrono i suoi familiari? Molto. Siamo a 40 anni dalla morte di Carlo Alberto Dallachiesa, il generale dei carabinieri ammazzato il 3 settembre del 1982 con la giovane moglie Emanuela Setti Carraro e l'autista Domenico Russo da un commando. Di Cosa Nostra? Un omicidio che insieme a quello di Paolo Borsellino, di Giacomo Matteotti ammazzato dai fascisti e di tanti altri resta uno dei più annunciati della storia italiana. Inizia così l'intervista rivolta a Nando Dallachiesa, figlio di Carlo Alberto. Su Borsellino non sono così d'accordo che fosse annunciato, dice. L'ho visto l'ultima volta al convegno alla biblioteca di Palermo, era al tavolo dei relatori e quando se n'è andato c'è stato un applauso interminabile con le persone che si alzavano in piedi. Non l'hanno ucciso perché era solo come mio padre, spiega così Nando della Chiesa, oggi sociologo. Pochi hanno capito ancora adesso che Cosa Nostra, prosegue ancora, voleva evitare che la direzione antimafia che stava nascendo potesse andare nelle mani di un grande magistrato come Borsellino e non solo la mafia temeva questa nomina ma tutti quelli che immaginavano che una struttura nazionale avrebbe potuto lavorare per la legalità senza guardare in faccia a nessuno. Con il tempo ragioni e razionalizzi le cause e capisci quanti sono quelli che si possono sentire coinvolti e minacciati perché la struttura antimafia era molto simile a quella creata da mio padre per combattere il terrorismo quando mi hanno detto di Borsellino e della scorta per me è stata una dolorosissima sorpresa. Ho pianto 15 minuti appoggiato al telefono pubblico dell'aeroporto di Reggio Calabria ma per mio padre era davvero un delitto annunciato e anche lì ho sbagliato perché quando sono tornato a Milano dopo le vacanze dell'estate dell'82 ero stato con lui a Prata Principato Ultra in Irpinia nella casa del nonno materno pensai seriamente che potessero ammazzarlo ma mi dissi non lo possono fare si sono talmente esposti che sarebbe un delitto firmato e imparato che possono esistere i delitti firmati basta che esista una società che non voglia leggere le firme. Il generale Carlo Alberto della Chiesa è stato ucciso il 3 settembre dell'82 40 anni e sono trascorsi un massacro avvenuto in pochi attimi quando i killer della mafia hanno affiancato le auto in movimento sparando all'impazzata con i Klasnikov AK 47. Le sentenze hanno accertato la responsabilità di Cosa Nostra con le condanne in via definitiva dei killer Raffaele Ganci, Giuseppe Lucchetta, Vincenzo Galatolo, Nino Madonia insieme ai collaboratori di giustizia Francesco Paolo Anselmo e Calogero Ganci e dei cosiddetti mandanti interni a Cosa Nostra, Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenne Geraci. Ma sono stati solo i mafiosi ad uccidere dalla Chiesa? Chi era il prefetto che aveva avuto la pretesa di sfidare la mafia a Palermo? Chi glielo fece fare? Che cosa ha rappresentato la sua morte? Ma soprattutto sono state date tutte le risposte numerose interrogativi che ancora oggi riaffiorano prepotentemente dopo 40 anni di distanza. L'omicidio di dalla Chiesa può certamente essere identificato come uno spartiacque, un punto di svolta della storia della mafia, aveva detto Antonio Ingroia nel lontano 2012. Una svolta caratterizzata da tutti quegli elementi tipici presenti nelle grandi stragi di Stato con tanto disparizione di documenti e misteri. Il quotidiano La Repubblica nel 2013 ha rivelato l'esistenza di una lettera anonima recapitata all'allora sostituto procuratore Nino Di Matteo, uno dei PM che indagava sulla trattativa tra Stato e mafia, ma anche di una valigetta. Un ufficiale dei carabinieri in servizio a Palermo si legge nella missiva, si preoccupa di trafugare la valigetta di pelle marrone che conteneva documenti scottanti, soprattutto nomi scottanti riguardanti indagini che dalla Chiesa sta cercando di svolgere da solo. Tasselli su tasselli che formano poco alla volta, un mosaico sempre più macabro e sinistro in cui prende forma la bestia più nera delle indagini in seno. La Repubblica Italiana, il depistaggio è l'elemento principe che più di tutti ne può decretare l'esistenza, sono proprio le parole del capo e dei capi Tutorina, intercettate il 4 settembre del 2013 nel carcere Opera di Milano, mentre parla con il suo compagno d'ora d'aria, Alberto Lorusso. La conversazione registrata ha confermato che al generale sono stati effettivamente sottratti i documenti, dell'arresto che dietro a quel delitto non vi sia la sola mano di Cosa Nostra, testimoniato anche dalla voce di mafiose e collaboratori di giustizia e successivamente anche i pentiti Tullio Cannelle e Gioacchino Pennino hanno fornito ulteriori spunti ed anche i giudici. Certo Cosa Nostra ha fatto la sua parte, ma forse 40 anni dopo sarebbe giunto il momento di dire che è stato assassinato dallo Stato mafia e dalla mafia Stato che avevano tutto l'interesse, sia a Roma come a Palermo, di vederlo morto. Ha mai provato a immaginare la sua vita senza divisa? È una domanda che potrebbe apparire cattiva. Bene, io in divisa ho vissuto tutta la mia vita con l'unico scopo di servire lo Stato, le sue istituzioni e la collettività che mi circonda. Penso che non mi abbia mai fatto dimenticare di essere un cittadino come tutti gli altri. Quando racconterà la sua vita ai suoi nipotini? Che cosa dirà? Beh, ai bambini si raccontano le favole, le belle favole. Se si riferisce alla mia vita, io penso che la mia vita non sia stata una favola, non sia una favola. E se è come è, una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai più giovani della mia arma. Rischio idrogeologico e il genio civile di Agrigento al lavoro. Arturo Cantella E in pieno svolgimento ad Agrigento la campagna attuata dal genio civile per ridurre il rischio idrogeologico del territorio grazie alle risorse stanziate dal governo Musumeci e alle segnalazioni del sindaco di Agrigento Micichei dei sindaci dei comuni di Grotte, Licata, Menvi e Sciacca sul territorio di Agrigento sono infatti già in esecuzione e saranno completati entro la metà di ottobre i lavori per la pulizia e la sistemazione dell'alveo del fiume Ipsas per il tratto compreso tra la rotonda Giunone e il deposito Sais del vallone Cannatello a San Leone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.